buona notte buona notte si è fermato l'altra si è fermato si è fermato ti accolgo di te è una buona Grazie a tutti 1-4, da questa strada, qua accendere te, non è, finita, accendere te, non è, finita, accendere te. Grazie a tutti. 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 non si muove chi siete? no non lo so non lo so perché nemmeno con un'auricolare dai questa cirena e va e va la fine e va e va e va e va guarda che cazeta, ora trovo un panorama qui si è cazeta si vede? guarda il panorama, mamma che panorama che panorama che panorama, eh? a polle, a polle solo con frenerete è l'unico modo, guarda qua ora trovo un panorama di chissà caseta andiamo ci stanno dico andare nei posti giusti ma ci stanno guarda qua qua, che stai da cartolino a questo posto? scherzi guarda vai uuuu dai giù polverone, eh? tu le giuste, eh? tu le giuste, eh? guarda, 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 guarda qui la faccio il leccine quanto riguarda mazza, si esce a prendere la guida ah, t'ho sentito e belong inizio a sentirli come t abuses inizia a sentirli inizia a sentire i bot NES come te ce tu 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 vabbè ma il problema è che la sabbia teniamo la tutta parte si 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 può fare ma cosa la sua faccetta di camera c'hai franco come si chiamava franco pecorella pecorella infatti noi ce la facevamo lenta 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 poi ce la fece vedere il suo certo frango chilo lago klr che la fece vedere a gas aperto prima niente ma così città però si perde quel piacere di scendere così perché se lasci il freno non freni proprio prendi delle velocità pensa che quelle buche si iniziavano a sentire ma io l'aventavo anche strano a me l'aventavo anche senza freno avanti si fa un tumore avanti e si blocca la ruota quando camminare un po' di pesa avanti tende a rallentare avanti ah si si è andato molto avanti vai mettiamo un po' ma c'è è troppo avanti è troppo avanti troppo avanti troppo avanti e Grazie a tutti 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 Grazie a tutti